Ciao a tutti, se avete piacere iscrivetevi al mio canale, attivate le notifiche e lasciate un bel like, grazie anticipatamente. Allora, solitamente il primo febbraio ci siamo ritrovati spesso e volentieri a commentare non scoppiettanti edizioni del mercato invernale, se non quella edizione 2022, quella in cui la Juventus in una settimana creava il panico, prendeva Dujan Vlaovic, poi piazzava Rodrigo Bentancur e Dejan Kuluzeska al Tottenham, trovava un accordo per il prestito di Aaron Ramsey ai Rangers, chiudeva l'arrivo di Zaccaria dal Borussia Mönchengladbach, però credo che il gennaio edizione 2022, quello di un anno fa, rappresenta un unicum. Sostanzialmente la Juve, per definizione, nella sessione di riparazione è andata anche su qualche riempitivo qua e là negli anni, è provata ad anticipare l'arrivo di qualche giovane, insomma, non è mai stata una finestra scoppiettante per la vecchia signora e in generale per il mercato italiano. E' chiaro che l'ultima sessione invernale è stata un disastro per il sistema calcio Italia, la Juve non ha fatto niente, se non qualche giovane, quello più rappresentativo è di Biase, preso e lasciato in prestito alla Pistoiese, scusate, questa attaccante classe del 2005, poi ovviamente la Juve ha creato potenzialmente i presupposti di una bella sessione, quella di Weston McKennie a Leeds, perché dico potenzialmente, innanzitutto non c'è nessun obbligo di riscatto, è un presito con diritto di riscatto giusto appunto facoltativo, è chiaro che se tutto dovesse andare a dama potresti portare a casa una cifra importante, ma c'è magari il rischio che McKennie torni alla base e in generale, essendo un riscatto facoltativo, io direi proprio automaticamente fossi in Leeds e andrei a ridiscutere le condizioni, cosa che penso che faranno anche qualora McKennie dovesse impattare bene nello Yorkshire. Allora, però, veniamo al dunque, secondo me quello che è accaduto ieri è figlio del momento, mi riferisco al fatto che Giovanni Manna si trovasse a Milano e quindi sotto i riflettori incontrasse Giovanni Bia, ovviamente il riferimento va al tentativo, naufragato, di riportare a casa Andrea Cambiaso, giocatore che è di proprietà della Juventus e in presito secco al Bologna. Però, complessivamente, considerando anche le parole dello stesso Bia che ha spiegato come la Juventus volesse prendere subito Cambiaso, che al tempo stesso di Bologna non fosse d'accordo, non esce bene la Juve, ne esce come quella che non riesce a portare a casa neanche un suo calciatore, un calciatore di sua proprietà. Poi ci sono i tesseramenti, i regolamenti, nel senso non è che poi decidero oggi o domani di portare a casa un giocatore che è sì di tua proprietà ma che è in prestito a un'altra squadra e che quindi è tesserato con un'altra squadra fino al 30 giugno. Quindi, legittimamente, il Bologna ha fatto le sue osservazioni, ha fatto le sue analisi. Io credo che là ci sia un direttore molto capace come Giovanni Sartori e quindi, giustamente, se mi chiedi Cambiaso il 31 gennaio, non ti deve interessare che io abbia preso Kiriakopoulos perché magari Kiriakopoulos, un giocatore che il Bologna ha preso dal Sassuolo, mi può servire per altri orizzonti tattici. Kiriakopoulos è uno che ha giocato spesso nella prima parte di stagione con Dionisi come esterno d'attacco nel treno offensivo. Quindi, il Bologna ha la sua programmazione, pensa su Orticello e ha ritenuto opportuno che Cambiaso dovesse rimanere a rispettare il contratto fino al termine della stagione. Questo sarà un problema per Cambiaso? Probabilmente sì, perché faccio fatica a pensare che possa primeggiare contro due vecchie volpi quali sono Likogianis e Kiriakopoulos. Quindi, se prima si parlava di un Cambiaso che si giocava il posto di partita in partita con Likogianis, ora invece dovrà farlo con altre due pedine. Vedremo con una pedina in più, considerando Likogianis. Quindi, vedremo cosa succederà, ma resta il fatto che da un punto di vista tecnico da un punto di vista tattico il Bologna abbia preso una decisione sacrosanta, coerente e che fa capire, no, come se la Torri tenda sempre poi a programmare. Cioè, se magari la Juventus avesse chiesto inizio mercato Cambiaso, verosimilmente il Rosso-Blu avrebbe avuto tempo per approfondire questa richiesta e quindi magari muoversi sul mercato. Così facendo, probabilmente Sartori ha ritenuto che non ci fossero i tempi tecnici per andare a prendere magari un altro giocatore che potesse sostituire Cambiaso con l'aggiunta di Kiriakopoulos, che è un jolly per la fascia sinistra, alto e basso. Però, una Juve che si espone così sotto i riflettori, perché poi abbiamo visto la foto in ascensore tra Giovanni Manna e lo stesso Bia, una Juve che si espone così, che si fa vedere, che si fa immortalare, che fa passare il messaggio di voler provare a prendere Cambiaso e poi non ci riesce, è un segno di debolezza. Qua non dobbiamo nasconderci, ma soprattutto il fatto di, secondo me, non è tanto non essere riusciti a riportare a casa Cambiaso che non sposta, perché non stiamo parlando di un giocatore, insomma, pronto per fare il titolare alla Juve. Avrebbe voluto rappresentare un'idea, perché è un ambidestro, quindi a destra è un buco, magari avrebbe giocato più là che a sinistra, dove in teoria dovrebbe costruire una carriera importante. Ma è pensare a Cambiaso, è pensare a Cambiaso, il 31, e provare a fare uno scambio il 30, Kasdorp-De Sciglio. C'è qualcuno che dice anche che la Juve ieri abbia provato a mettere nel discorso De Sciglio con Cambiaso. Insomma, mi sembra un quadro che testimonia davvero quanto sia complicato il momento in casa Juve. Io ora non voglio pontificare, non voglio sdottorare, perché non sono un dirigente e non sto operando la Juventus in questo momento di profondissima difficoltà collettiva. Però c'è da considerare come queste cose tendenzialmente accadono quando emergono delle fragilità tutto tondo. Quando emergono delle fragilità tutto tondo. E quindi, secondo me, ieri la Juventus non è uscita bene, nonostante poi trappelasse che la linea fosse quella. Cioè, mercato chiuso, la Juve è in entrata, non è arrivato Cambiaso, non è arrivato nessun altro. Quindi probabilmente la Juve ha anche deciso, per me saggiamente, di non andare a prendere i riempitivi dell'ultima ora, di non accollarsi in gaggi inutili. Se Cambiaso me lo posso riportare a casa, il mio giocatore ci lavoro sulle sue caratteristiche. O invece, se non ci riesco, pace, amen, vado avanti in qualche modo con quelli che ho. Io ho qualche dubbio a destra, ce l'ho, perché la Juve ha perso l'alternativa, verrà qua a quadrato, che era Weston McKennie, adattato, ma era lui l'alternativa. Invece ora devi adattare altri giocatori, da Federico Chiesa a Mattias Sassule, magari verrà responsabilizzato Barbieri. Vedremo, però sicuramente è tosta, sicuramente è tosta. La giornata ieri va a consolidare davvero i dubbi che ci possono essere, ma soprattutto le fragilità, le fragilità di un aerosport in difficoltà.